In questo nuovo tutorial natalizio vedremo come si realizzano dei fiocchi di neve che possiamo utilizzare sia per decorare l'albero o per decorare la nostra casa. Ciò che vi occorre è un filo di cotone bianco, una misura indifferente, l'incinetto della misura che richiede il filo e vediamo come si comincia. Per prima cosa dobbiamo cominciare con il nostro classico cerchio magico, quindi cominciamo e all'interno del cerchio in questo modo. Cominciamo con 5 catenelle che valgono come una mezza maglia alta e 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, poi una mezza maglia alta nel cerchio, in questo modo, poi 3 catenelle, 1, 2, 3, mezza maglia alta, sempre nel cerchio, altre 3 catenelle, 1, 2, 3, praticamente dobbiamo ottenere 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, mezza maglia alta e così siamo a 1, 2, 3, 4, ancora 3 catenelle, poi 3 catenelle, 1, 2, 3, una mezza maglia alta, ancora, poi 3 catenelle, 1, 2, 3, chiudiamo il cerchio stringendo il filo e chiudiamo l'ultimo archetto con una maglia bassissima sulla terza catenelle che abbiamo fatto inizialmente, 1, 2, 3, e abbiamo praticamente una sorta di fiorellino con circuit. ora per continuare lavoriamo la maglia bassissima nel primo archetto, poi 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassissima nell'archetto, poi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un'altra maglia bassissima sempre nell'archetto, poi 3 catenelle di nuovo, 1, 2, 3, sempre una maglia bassissima nell'archetto, ecco, poi una maglia bassissima nell'archetto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassissima nell'archetto, poi di nuovo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi maglia bassissima nell'archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, Daha maglia bassissima nell'archetto, 3 catenelle di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 2, 3, 3, maglia bassissima nell'archetto successivo, tra gli anzi dobbiamo ripetere il motivo per tutti gli archetti quindi 1, 2, 3 poi è bassissimo nell'archetto poi 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ancora maglia bassissima nell'archetto 3 cadenelle 1, 2, 3 sempre maglia bassissima nell'archetto e maglia bassissima nell'archetto successivo e ancora 1, 2, 3 maglia bassissima quindi 7 cadenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di nuovo maglia bassissima nell'archetto e di nuovo 3 cadenelle 1, 2, 3 maglia bassissima poi quanti se ne mancano altri 2 maglia bassissima vedo l'archetto successivo 3 cadenelle 1, 2, 3 maglia bassissima poi 7 cadenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglia bassissima intanto mi si girano il lavoro allora 3 cadenelle 1, 2, 3 maglia bassissima 1, 2, 3 siamo all'ultimo archetto maglia bassissima e l'ultimo 3 cadenelle 1, 2, 3 3 maglia bassissima e 7 cadenelle 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 maglia bassissima 3 catenelle 1, 2, 3 e maglia bassissima nell'archetto quindi chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella di quelle iniziali giusto per chiudere così e a fine lavoro abbiamo praticamente il nostro fiocco di neve